ragazzi oggi vi svelo che cosa farà questo inverno ve lo dico io ho già fatto le prove acqua catinelle no scusate mi stavo sbagliando neve appalate oppure farà davvero un freddo intenso quindi preparate la legna e accendete i cammini perché è davvero semplicissimo non occorrono i meteorologi ma no basta prendere un cachi tagliarli in due prendete il seme anche se non è più tanto facile trovare i semi all'interno dei cachi lo spaccate in due perfettamente osservate che cosa c'è all'interno che cosa c'è di vero in questa diceria popolare se siete curiosi dovete per forza seguire il video andiamo dai è semplicissimo è anche divertente per prima cosa dobbiamo prendere chiaramente un cachi e andarli a prendere i semi all'interno come dicevo prima non è più tanto facile trovare i semi all'interno dei nostri cachi comunque lo prendiamo e nella speranza di trovare un seme all'interno lo andremo poi a spaccare perfettamente in due guardate qua che bello allora una volta che vi siete mangiati il vostro cachi se all'interno c'è il seme lo andrete a tagliare perfettamente in due adesso cerchiamo un seme all'interno di questo cachi eccolo qua l'abbiamo subito trovato adesso lo tagliamo perfettamente in due mi asciugo un attimo le mani e facciamo questa operazione insieme osserviamo il seme il seme fatto così è un po ovale però ha una parte tondeggiante o da una parte un po più a punta prendiamo la parte questa più a punta è quella che ci interessa e posizioniamo la lama di un coltello che deve essere molto tagliente al centro di questa punta qua in questo modo qui eccoci qua ora andiamo giù per metà senza spaccare il seme quindi pian piano andiamo fino in fondo il dividiamo il seme perfettamente in due e poi osserviamo cosa c'è all'interno eccoci qua che cosa osserviamo un bel cucchiaio ragazzi e mi dispiace ma ci sarà neve appalate potete anche continuare a divertirvi a tagliare in due tutti i semi che volete di osservare le figure all'interno ma quello che stiamo osservando non è altro che l'embrione di questo seme che accade praticamente che quando il seme è all'inizio il germoglio si dovrà ancora ingrossare e la figura è questa qui molto stretta allungata un po appunto assomigliante ad un coltello con il passar del tempo questo embrione si svilupperà perché qui prima o poi la piantina nascerà e la forma sarà invece quest'altra vedete che somiglia un po più ad un cucchiaio diciamo così ad una pala si è ingrossato la parte dell'embrione più andrà avanti il tempo e qui l'embrione presenterà tre striature come se fosse una forchetta ecco che non è altro che la crescita dell'embrione all'interno del seme per poi diventare la futura piantina nient'altro ragazzi quindi mi raccomando per le coltivazioni osservate la natura osservate gli animali ma piuttosto andate ad osservare anche il meteo ragazzi sempre prodotti biologici un abbraccio a tutti da Pier Giorgio ciao a tutti